Un progetto complessivo che guardi alla infrastruttura nella sua totalità e metta al sistema tutti i singoli interventi e miglioramenti sinora realizzati negli anni ma rimasti a sé stante. È quello che dovrà cercare di fare in qualità di unico interlocutore qualificato nei confronti di ANAS e del Ministero delle Infrastrutture il comitato permanente costituitosi a Tavarone di Maisana tra sindaci, amministratori e parlamentari. Tutti impegnati per rendere la statale 523 di Centocroci un collegamento più funzionale tra la costa e il Parmense passando per la Val di Vara. Noi dobbiamo fare in modo con un intervento di ammodernamento di rettifica di avvicinare soprattutto le popolazioni di queste zone intanto ai servizi del nostro territorio. Ovviamente poi ci sta la parte turistica. Il tracciato della strada è rimasto pressoché invariato dall'inizio del 1800. Negli anni 90 del secolo scorso erano stati messi in campo diversi interventi di rettifica, rimasti però episodi isolati. Mi riferisco al traforo del Collo dei Velva, mi riferisco al ponte che unisce i territori di Sestri Levante con quelli di Casarza Ligure, mi riferisco a interventi immediatamente prima di Varese Ligure, che però se non sono messi a sistema e raccordati in una progettazione e in una definizione realizzativa definitiva, sono vanificati. Tra i nodi individuati dal comitato su cui lavorare ci sono il collegamento tra Casarza e Battilana, i trafori, lato Castiglione Chiavarese e lato Varese Ligure e le connessioni con le strade limitrofe. Al momento di confronto ospitato a Tavarone di Maestana era presente anche il presidente della provincia di Parma, che ha ribadito l'unione di intenti con il vicino territorio Ligure. Nel tratto Parmense la 523 è ancora di competenza della provincia, abbiamo però avanzato richiesta di trasferimento all'ANAS, crediamo che quindi le azioni sovraregionali di collaborazione istituzionale e politica possano servire nella relazione con il futuro gestore anche del tratto Parmense, quindi con ANAS, per condividere progettazioni, investimenti, ma io dico anche manutenzioni e piccoli interventi che però possano migliorare la velocità e la qualità di un collegamento che davvero può essere strategico per entrambi i nostri territori.